Qual è il ruolo dell'insegnante in questo... qual è stato il ruolo dell'insegnante? Ma in realtà il ruolo dell'insegnante è stato solo da mediatore, noi abbiamo mediato tra i vari gruppi perché poi i ragazzi in realtà hanno lavorato in modo piuttosto autonomo una volta che avevano acquisito le conoscenze, per cui... Quindi guida possiamo... Sì, diciamo guida, mediatore anche perché qualche piccolo conflitto sempre comunque si crea, però è stato un lavoro molto positivo. Lavoro tutto l'ora insomma, bene.